Parliamo di Inter, Marotta ha detto che... Vediamo le reazioni di Ferri. Che si è, l'Inter è a un passo dalla storia, perché questa seconda stella non è che capiti a tutti. A 19 scudetti è storia. E beh, arrivare a fare la seconda. In genere si arriva a 20, loro a 19 è storia. No, a un passo, sono a un passo. A un passo dal diciannovesimo scudetto che li porta alla seconda stella. Ah, perché tu non conti, scusa, vedi che ce l'ho cascata. Eh, perdona, io continuavo a dire, ma no, a un passo, sono a 19, me lo fanno 20. Non ti concentri. No, ma perché io... Io li aggiungo tutti. Io li do, io li do e non li faccio a tutti. Io sono molto democrazio. No, se li dà la Juve, li toglierò per forza. E io li do. Li do a tutti. Allora, è un passo dalla storia, cioè, è un risultato storico, Massimo, il ventesimo scudetto. Però io scusa, ma... Dimmi, dimmi. Io scusa, ma mi leggo subito a quello che ha detto Marcello, perché veramente il calcio è veramente una bella materia. Perché io ricordo Marotta, io ricordo Marotta all'interno di uno spogliatoio della Juventus festeggiare con tanto di maglietta, con il numero degli scudetti, che comprendeva anche lo scudetto quello che era andato all'inter. Lo ce l'ha fatto. E lui aveva il numero degli scudetti, invece che la Juventus contava come tutti loro. Me la ricordo anch'io. Da che parte sta Marotta? Sta dalla parte del scudetto che è andato alla Juve? Sta dalla parte del scudetto che è andato a chi lo paga. Eh, esatto, bravo. E chi lo paga, dice, quanti scudetti ti paga la Juve? Quanti scudetti sono 38? Esatto. Quando ti paga l'Inter, dice, no, sono 20. Esatto. Esatto. Perché in effetti se ne riconoscivi l'alito è di qua. Dimmi, dimmi, Massimo. Sì, detto questo, io credo che abbia un significato particolare, secondo me, più per Inzaghi, perché insomma è il primo scudetto che vince e credo che abbia un significato particolare perché io sono convinto che, insomma, possa almeno lenire il fatto che lo scudetto che ha perso il primo anno è stato più perso da lui che vinto dal Milan, che vinto da Pioli. Poi è logico, Pioli è stato bravo, però in quell'anno ci ha messo tanto l'Inter e detto questo dico anche che l'anno scorso non ha mai lottato per lo scudetto, quindi io credo che sia uno scudetto meritatissimo, ma anche che dia più soddisfazione all'allenatore che ha la dirigenza che probabilmente ne ha già vinti, Marotta anche alla Juve, ma Ausilio credo che ne ha vinto un altro, se non sbaglio, se non due. Adesso non ricordo, però sicuramente quello con Antonio Conte l'ha vinto anche Ausilio. C'era, c'era, assolutamente sì. Caro Ferri, dai. Gianbruno, hai studiato le reazioni di Ferri sul conteggio degli scudetti, su quanto detto anche da Massimo? No, per Giacomo sono 25 gli scudetti lì. Ma mi sa, 26 forse. È la terza stella quasi. Vabbè, ma a parte di scherzo, no, sono già la terza. Sono già la terza. Io credo che Inzaghi in questi anni sia migliorato veramente tantissimo. Questa sto parlando seriamente, perché abbia perso col Mila, magari quell'anno lì, sì, ci sono state sette partite, ha fatto sette punti e lì ha perso tantissimo. Aggiungi il carico, Jack, dell'altro anno in cui ha rischiato tanto, l'anno che poi sfociava nel mondiale in Qatar, Inzaghi era già con le valigie in mano. Ma più volte, più di una volta. Poi si è salvato perché tanti dicevano, ma sta andando avanti in Champions League, sta andando avanti in Champions League, il problema anche dei 60 milioni famosi e tu permetti alla società di evitare la cessione e adesso sta compiendo qualcosa. Io credo, lui e la società, perché come abbiamo detto anche prima, comunque la società è intervenuta in questi anni in modo splendido, parlo degli acquisti, nonostante le difficoltà economiche che sappiamo tutti. Però io dico che è un vanto per tutti, perché io credo che quando vinci lo Scudetto, anche se li hai già vinti, comunque lo Scudetto è un obiettivo importante. Perciò anche chi ha già avuto questa esperienza, penso che sia un risultato molto molto importante. Ma il fatto che quest'Inter giochi anche molto bene, è un qualcosa che, insomma... No, questo devi dire, bisogna dire, devi metterlo nelle qualità e nelle caratteristiche dell'allenatore. Ti faccio un esempio. L'Inter quest'anno, ma già l'anno scorso, ma quest'anno lo fa di più, mi fa impressione quando è in fase di non possesso. Come perde palla, vanno ad aggredire gli avversari e vanno a riconquistare la palla dopo neanche un secondo e mezzo. Allora, cosa che gliel'ha data l'allenatore questo. Perché i giocatori, è vero, sono tutti bravissimi i giocatori. Lui ha messo dei giocatori in certe posizioni dove li ha fatti, diciamo, migliorare a 360 gradi. Però una delle doti che mi ha impressionato quest'anno, parlando seriamente, è nel momento in cui l'Inter perde palla, vanno ad aggredire gli avversari e non gli danno la possibilità di ragionare. E questo è un imprinting che ti dà l'allenatore? In più, in più, come abbiamo detto di altri allenatori che hanno avuto difficoltà sotto l'aspetto degli infortuni, perché hanno avuto tanti infortunati, l'Inter quest'anno, che ha giocato quasi sempre con la stessa squadra, ha una situazione, una condizione fisica impressionante. È vero, è vero. È una condizione fisica impressionante. Però scusa Giacomo, però scusa Giacomo, questo mi spiace dirlo, perché se no siamo qui solo a fare i complimenti. Ma tutta questa cosa che hai detto l'ho vista in Italia, io in tutta la fase, compresa anche la fase dei gironi, in Champions non l'ho vista. Perché io dalla prima partita con la squadra spagnola Real Sociedad, che avevano giocato a Sociedad, io ho visto un Inter completamente diversa. Non l'ho vista padrona del campo e con tutte le caratteristiche che hai spiegato tu. Per me quest'anno l'Inter ha fatto un campionato stratosferico, ma in Champions ha deluso. Non dico che sia stato un fallimento. Ha deluso perché è uscita. Però è stato eliminato. Ha deluso perché è uscita. Beh, ha deluso anche nel gioco. Ma no, ha deluso anche nel gioco. Ha deluso nel gioco. Massimo, se noi leviamo la partita Real Madrid con il Manchester City sotto l'aspetto del gioco, non è che abbiamo visto squadre anche che sono andate avanti. No, no, no. Scusami però, Giacomo, scusami. Avevamo detto qui, e l'hanno detto tutti, che l'Inter aveva il centrocampo più forte d'Europa. Non è che l'ho detto io. L'hanno detto tutti. No, io no, Massimo. L'hanno detto anche a detti dell'Europa. L'Europa no. L'Europa no. L'Atletico non puoi giocare con l'Atletico come hai giocato, secondo me. Sì, no, ma vabbè. Noi sappiamo che le partite di Champions, non per l'Inter, ma per tutte, sono diverse. Ti faccio un esempio. Con l'Atletico, l'Atletico è una squadra che è difficile da affrontare. Lo sappiamo, l'ha affrontata anche la Juventus. La conosciamo come gioca a Simeone. Però proprio per tornare ad Allegri, Allegri vinceva gli scudetti, arrivava in finale di Champions League e in questa televisione dicevano che la Juventus è un fallimento, una stagione fallimentare. Arrivava in finale di Champions League, la perdeva, aveva vinto il terzo scudetto consecutivo, ma la stagione era fallimentare. Oggi stiamo facendo passare un messaggio un po' diverso, perché per quello che abbiamo detto dell'Inter che ha ammazzato il campionato, io mi aspettavo un Inter, non ti dico che poteva arrivare ancora in finale, ma volevi metterlo almeno ai quarti, almeno ai quarti. Io quando c'è stato il sorteggio ho pensato l'Inter passa, magari non facile, ma passa. Però sai qual è la differenza secondo me tra la Juventus e l'Inter? Che alla Juventus quando Allegri vinceva lo scudetto e perdeva le finali di Champions League. Io mi ricordo, perché me lo ricordo, ero già qua perché anch'io sono quasi vent'anni che vengo qua, perciò seguo un po' tutti. Ti dico, sentivo specialmente chi era tifoso della Juve che diceva, eh sì però come per dire lo scudetto l'abbiamo già vinti due, tre di fila, ci interessa. Secondo me la differenza tra l'Inter e quella Juve è questa, che l'Inter vinceva lo scudetto è tanta roba. Sì però cosa c'entra col fallimento? Cosa c'entra col fallimento? No, sto dicendo. Sì ma il fallimento lo diceva chi era tifoso della Juve perché lui non voleva... No, 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 il tifoso della Juve rimaneva deluso, rimaneva deluso, il fallimento lo dicevano gli altri. Ma fallimento chi? Chi l'ha detto? Gli altri, gli altri gli altri, quelli che venivano qua e che erano delle altre squadre. Marcello io ti dico la verità, allora se vogliamo parlare seriamente, se una squadra vince lo scudetto quanti l'ha vinto di fila? Cinque? Juve, nove. Due volte, no parlo di Allegri, parlo della Juve di Allegri. Allora vai due volte in finale della Champions League? Non puoi dire che è fallimento ragazzi. Cioè chi dice che è fallimento perdonatemi, ma vuoi dire che di caccia capisce poi. No Giacomo scusa, scusami, scusami, io ho detto che hanno detto fallimento per prendere l'iperbole la più alta, poi non ti dico quando uscivano ai quarti di finale, cosa sentiva in televisione. Quando uscivano ai quarti di finale, vincevano lo scudetto, erano dei coglioni, allenatori, dirigenti, tutti quanti. Sì 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 sì. Con l'Inter sentiamo un altro discorso, ha ragione su questo, sull'Inter sentiamo un altro discorso, esce con la tre di rigore. L'Inter non ha vinto, l'Inter non ha vinto, l'Inter non ha vinto, siamo usciti i rigori, siamo usciti i rigori. Parliamo degli ultimi due anni. L'Inter sta vincendo da tre anni? Due anni? Tre anni? Quant'è che sta vincendo? Da quando è arrivato Antonio Conte? Se lasciamo perdere Mourinho, perché sono passati non so quanti anni, 15... Ha ricominciato a vincere... I rigori stai calcolando anche le Coppe Italia e le Supercoppe? Sì. E lui sta calcolando questo. E beh, è il trofeo. Trofeo, è il trofeo. E beh, allora, adesso quest'anno chi dice la Coppa Italia... Ma infatti il mio grande interesse per la Coppa Italia quant'è? Sì, per me ci sono trofei di prima categoria e poi trofei di seconda e di terza. E beh, anche le categorie c'è la A, B e C, cosa vuol dire? Però io, io personalmente, chi vincerà la Coppa Italia, tra le squadre che sono rimaste, ha vinto un trofeo. Perché no? Cioè, è un trofeo, ragazzi. È un trofeo di consolazione, scusa Giacomo. Ho capito, ma è meglio vincere o non vincere neanche quello? La Juventus, scusami, la Juventus non può andare a sbandierare la Coppa Italia, fa ridere. Sì, ma non va a sbandierare la Coppa Italia, fa ridere. Non mi sta piacendo il lavoro che sta facendo Giuntoli, assolutamente. È partito a mandare un messaggio a Conte ad ottobre di non andare al Napoli, cercando, secondo me, di far capire ad Antonio che l'avrebbe poi chiamato la Juve e poi è sparito. Non mi piacciono questi tipi di comportamenti poco chiari. Si deve ricordare che il signor Allegri deve percepire 666 mila euro al mese netti il prossimo anno. 666 mila euro netti, che sono una zucca lorda. Una zucca lorda deve prendere Allegri. Sono 12 milioni lordi l'anno prossimo. E io, se sono Allegri, sai cosa faccio? Mi sto lì seduto e aspetto che mi chiamano. Mi chiamano per mandarmi via. Lui pensa di essere ancora a Napoli, se è sbagliato, se è sbagliato, se è sbagliato. Fatevi raccontare da Luciano Spalletti chi ha vinto lo scudetto a Napoli l'anno scorso. Se l'ha vinto lui o se l'ha vinto Giuntoli? Se l'ha vinto Giuntoli o l'ha vinto Spalletti? Scusa, io sono cresciuta a pane e ci sono pochi direttori sportivi all'altezza, tra questi c'è Giuntoli. Tu mi stai un po', anche io sto vedendo delle cose, delle mosse che magari... Ma scusa, ma scusa, ma la Juventus, scusami, ma la Juventus è testa a testa con l'Inter. Lascia stare che poi lo vince tutta la vita l'Inter. Ti vengono a mancare a settembre due giocatori. Uno si chiama Pogba, uno si chiama Fagioli che sono all'interno dello stesso ruolo. Tu arrivi al mercato di gennaio, mandi Allegri davanti, che lui naturalmente essendo un aziendalista dice va bene, vado lì e dico quello che devo dire. Va lì e dice no, non ci serve nessuno perché ho paura del gruppo, ho paura che qualcuno arrivi e mi stravolga un po' quelli che sono gli equilibri del gruppo e poi dici, mandi brutti segnali su Philips, brutti segnali. Guarda che hanno chiamato gente vicina a me per chiedere di Hoiberg e Philips, di Hoiberg e Philips, hanno chiamato gente che ha lavorato in Inghilterra per chiedere di questi due giocatori. Poi non li vai a prendere e poi a cinque giorni dalla fine del mercato chiami la buonanima di Joe Barone a cinque giorni, mettendo in difficoltà comunque Barone perché dice adesso io c'ho un ragazzo che mi sta pressando per andare alla Juve, lo perdo perché è logico è un'occasione più unica che rara per Buonaventura di tornare a vestire una maglia, non perché la Fiorentina non è importante, però sicuramente la Juventus ha magari un pochino più blasone e metti in difficoltà la Fiorentina e lo chiami a cinque giorni dalla fine del mercato però mandi a dire Allegri che non hai bisogno di centrocampisti, ma cosa stai facendo? Ma non sei mica al Cesena, con tutto rispetto per il Cesena, sei la Juventus, sei il direttore della Juve. Allora, chi vuole rispondere su questo discorso? No, no, ma è giusto. Non ti sta piacendo? La storia che ha raccontato? Sì, sì, ha di Buonaventura cercato gli ultimi giorni. Sì, 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 ma non si fa il mercato così però, non si fa il mercato degli ultimi minuti perché il mercato degli ultimi minuti ti porta a Alcaraz. Esatto, bravo. Che è un ragazzetto che giocava tra l'altro neanche in Premier, ma giocava in Championship. Nella Bingley. In Championship. Non l'ha capito nessuno quella. No, perché quello era un giocatore che lui aveva già adocchiato quando era in Napoli. Aveva provato a portarlo, ma era troppo caro, non già lo ha fatto. Ma neanche quindi come scopritore c'è l'oro di Napoli? Ma no, io ritengo che secondo me lui è stato scelto proprio per questo, per i pregressi a Carpi e Napoli, che lavorando col poco è riuscito a costruire comunque delle squadre. Una che si salvava sempre e l'altra che era avuto in Serie A e poi si salvava sempre e l'altra che ha vinto addirittura un campionato dopo 33 anni. E anzi è arrivata anche avanti in Champions. Però Massimo, se non sbaglio, mi ricordi, tu dai un 80% a Spalletti di quel merito anche di Quaraschiella, di alcuni giocatori. Giusto di quell'oro di Napoli che è arrivato a 33 anni. Ma è una favoletta ragazzi, ma è una favoletta che lui ha scoperto Quaraschiella. Guardate che Quaraschiella aveva il CD in mano Paratici quando Paratici è stato mandato via dalla Juve. Lui aveva il CD in mano, è andato al Tottenham e ha fatto vedere il giocatore a Cristian Stellini quando ancora non era del Napoli, sarebbe diventato del Napoli l'anno successivo. Lui aveva il CD in mano per prenderlo al Tottenham, Faraschiella. Quindi non è lo scoperto che giocava al parchetto sotto casa. Era già sulla bocca di diversi direttori. Dai, ma non facciamo le favolette, non facciamo diventare fenomeni questi talent scout che poi adesso chiama tutto il suo gruppo alla Juve perché evidentemente da solo non riesce a lavorare. Come mai non riesce a lavorare da solo? Giuntoli. Giuntoli, Giuntoli, se ci stai guardando intervieni in diretta, questa è una domanda secca. Ci sono dei dirigenti, cara Giovanna, che io li chiamo spettatori non paganti e cravattati. Ma Massimo, che tra l'altro hai dato anche una cosa, adesso non so se mi sono persa qualcosa, chiedo a Marianna e a Giacomo, poi naturalmente anche a Gian Bruno e Chirico, quando Massimo dice Giuntoli ha tirato l'amo a Conte, quasi dicendo non andare là perché c'è la speranza che tu possa tornare qua a ottobre. È una cosa che si sapeva? Cioè, gli ha fatto credere che c'era la speranza che quel portone della Juve si risparancasse per Conte e poi l'ha giunto lì. A Conte. Massimo, hai detto questo, no? Marcello, scusa, forse mi sono spiegato male. Giuntoli ha utilizzato una persona, ok, per andare a dire a Conte, non accettare di andare a Napoli a ottobre, facendo credere all'allenatore che eventualmente ci sarebbe avvicinato alla Juve. Ma se ha già scelto Tiego Motta lui, lui ha già scelto Tiego Motta. No, no, parlo di ottobre, parlo di ottobre, Marcello, parlo di ottobre. Conte, 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 se vi ricordate bene, a ottobre, quando va via Garcià, viene contattato dal Napoli, ok, attraverso dei procuratori, sto molto generale, ok, ma si infila dentro Giuntoli e gli manda un messaggio e gli dice, caro Conte, non andare là, stai fermo, come per dire. Aspetta, aspetta, vediamo le cose come vanno, perché può essere che torni alla Juve. Guarda caso, in quel periodo Antonio va pure alle belve a spiegare forse il motivo per cui non ha accettato il Napoli, per cui sta aspettando e per cui dichiara amore infinito per la Juventus. Cioè, ci ha creduto e tu dici che Giuntoli invece non era al 100% un buon affetto. E allora in quel momento, in quel momento, forse, anche perché io so per certo che all'interno della società chi lo vuole fortemente è Calvo, che vorrebbe il ritorno di conto. Certo, come diceva anche. Magari Giuntoli che era appena arrivato, sai, si parlava di possibile sostituzione, perché la Juve, ricordiamoci che la Juve… Tu sai perché non lo prende, caro Marcello, tu lo sai perché non lo prende? Te lo dico io perché non lo prende. Perché le cose nel calcio, le parole nel calcio, Giacomo Ferri lo sa benissimo. È meglio star zitti e non parlare quando sei all'interno di un meccanismo. Perché le cose poi vengono fuori peggio che i pettegoli del cortile. Allora, lui che va a parlare a un dirigente e a dire io non prendo Conte perché domani vinciamo, sarà sempre la vittoria di Conte, mai la mia. Se prendo Tiagomotta, vinco anche io insieme a Tiagomotta. Hai capito perché? Sì, però diciamo anche che Conte è il cannolo rivuole. Eh, le parole sue, le parole sue, caro. Però bisogna aggiungere anche una cosa. Non c'entrerà tantissimo, per carità di Dio, ma giusto per fare anche un pochino di gossip in tutta questa cosa. Però non è che poi magari lo stesso Conte non vuole collaborare con Giuntoli. Quest'estate, prima di avere la risposta in merito a questa piccola domanda che ho fatto, quest'estate sono stati per due settimane nella stessa spiaggia, ad agosto tra le altre cose, visto che si parlava di mesi, no? Nella stessa spiaggia ci sono io e lì ho uno. E uno era a destra e l'altro era a sinistra, quindi non si sono mai parlati, mai. Mai rivolto in una parola. Si erano pure incrociati così nel bar e tutto quanto. Non c'è mai stato un mezzo colloquio. Quindi la domanda che mi sorge, proprio perché mi sembra strano che due pesi del genere nel calcio sono a 20 metri per due settimane, non si parlano neanche, questo mi sembra un po' strano. Quindi non è che per dire un Conte, lavorare con Giuntoli... Cioè si è reciproca questa non voglia di... No, ma è una domanda questa, non è assolutamente nulla per dire o smentire. Comunque rafforza anche quello che ha detto Massimo che è giunto lì, insomma, questo grande rapporto con... Perché ti assicuro che Antonio, che sta a casa, avrebbe gradito anche solo una chiamata per sedersi a bere un caffè e capire chi è Conte allenatore. Perché forse, Giacomo lo sa benissimo, quando fai colloqui con gli allenatori, tu fai portare tutto il materiale, spieghi lo staff, spieghi il lavoro, spieghi non solo come giochi, spieghi come intendi organizzare gli allenamenti, come intendi organizzare, dai delle linee guida sul mercato, sui giocatori, sulla rosa. Quindi secondo me, secondo me, con Conte a casa viene quasi normale chiamare Conte anche solo per un colloquio. Non l'hai mai fatto, non l'hai mai fatto, hai paura. Però la domanda che viene spontanea, Massimo, noi abbiamo visto che comunque Conte è uno che tende a portare dietro i propri uomini, da una squadra all'altro e quant'altro, quindi non è che magari la presenza di un giuntoli in qualche modo andrebbe quasi ad ostacolarlo. Ma lui dice che... No, veramente il contrario. È giuntoli che si sentirebbe sommerso dalla personalità e dal carisma. Però non per forza, può anche essere reciproca. Ah, no, 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 ma la connotazione che hai dato anche di una vacanza dove per 15 giorni non si sono sfiorati, certo è un qualcosa che fa rumore, no? Però io me ne immagino questa scena fantastica, me ne immagino con entrambi che vanno lì al bar della spiaggia, uno che chiede l'insalatona, è lei che si guarda... E uno ce l'aveva a destra e l'altro a sinistra, quindi c'è lo vero. Mi ha spiazzato, oggettivamente mi ha spiazzato. Perché ti vedevi anche Marianna attenta a destra e a sinistra invece che stare concentrata a prendere il sole e a rilassarsi. Non si smette mai di lavorare, ma è una bella dritta. Però ragazzi, andiamo in pubblicità, ritorniamo su questa cosa che è abbastanza importante, che il personalismo e comunque il non voler vicino un elemento carismatico sia stato determinante nella scelta e non scelta. La stessa cosa sta capitando tra Giuntoli e Allegri, Giuntoli non vuole Allegri, anche se nonostante quei dichiarazioni che hai fatto vedere. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Se vuoi fare questo lavoro e stare in certe squadre di un certo livello, non puoi soffrire di personalità o non personalità. Il discorso è uno solo, se c'è la società va tutto bene, va tutto bene. Perché altrimenti ti direi, Inzaghi soffre la personalità di Marotto o viceversa, per dirti, no. Parlando di Juve, a me mi sembra di stare a parlare di una squadra di dilettanti. Se tu hai personalità, se tu hai carisma e carattere, non ti interessa, altrimenti non vai alla Juve. Allora, sul discorso Giuntoli, Allegri o Conte… Mi hai detto tu prima che mancava la società, no? No, 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 sto dicendo un'altra cosa Marcello, io ho detto se non c'è la società fai anche fatica a fare risultati. Ma io adesso sono andato su un altro discorso, state parlando di personalità, no, questo non vuole perché… Ma ragazzi, stiamo scherzando, allora non vai alla Juve, non vai in queste grandi squadre. Io lo sto dicendo. Stai in una squadra medio-bassa. Allora, no, questo l'ha detto. Hai capito? Il problema è uno solo. Se fosse vero… Devi avere alle spalle una società. La società che poi viene compresa da direttore sportivo e allenatore, ma non sono solo loro due. Perché se metti solo loro due, può essere che non vanno d'accordo. Ma se tu hai una società vera, completa, diventa un po' più difficile. Ma chi è? Chi è in questo momento la società? Gianelca. È un attimo. È il can che si occupa di stellanti sexo. È questo Marcello. Quindi dici… Prendo giuntoli, se ne occupa lui. Marcello, ma è questo? Il presidente chi è? Un avvocato. Il direttore generale chi è? Un esperto di marketing. Allora vedi che stai venendo dalla mia? Cioè stai pensando a quello che penso anch'io, poi… Ma quello che pensano anche i tifoli… Il discorso è che non vale solo per la Juve, ragazzi. No, no. Lo sappiamo benissimo. Ma anche qui… Vale per tutte le squadre. Allora… Alla Juve in questo momento non c'è. In questo momento non c'è. Allora, è in costruzione. E quindi così vai in collisione. Ma non è in costruzione solo la squadra, è in costruzione anche la società. Sì, la maggior ragione vanno in collisione il direttore sportivo. Ma perché tu non sia l'Inter e a questo punto puoi permetterti di non avere una società perché te la fa il tuo direttore amministratore delegato, direttore generale e il direttore sportivo. Io faccio una premessa su Antonio Conte. Allora, detto che io, se fossi il direttore sportivo di una squadra che vuole vincere, uno dei primi nomi che andrei a scegliere a prendere è il suo. Perché secondo me, ma non solo a livello tecnico, di preparazione, lui come empatia sui giocatori è un mostro. Secondo me è un mostro. Sul fatto di quanto vale lui nello spogliatoio, nel gruppo, è un mostro. Ma, c'è un ma, che lui secondo me ha sbagliato più volte in alcuni atteggiamenti, anche durante le stagioni e questo ha portato molti addetti ai lavori a pensare che se dovessero prenderlo si porterebbero in casa un allenatore comunque con queste eventuali problematiche. Ingestibili. Lui alla Juventus, al Bari, nello stesso Siena, all'Inter, al Tottenham, è sempre andato via, insomma un po' in contrasto con i dirigenti, col Presidente, eccetera. Questo vuol dire che siccome succede spesso, non è che è successo una volta, succede spesso. Sempre, sempre. Vuol dire che lui secondo me deve cercare di cominciare a lavorare su se stesso. Questo lo dico tranquillamente. Lo reputo un amico e quindi, ma lui lo sa, quello che penso io. Lui il posto alla Juve se lo gioca proprio per questo. Se l'hai giocato di nuovo, il ritorno proprio per questo. Io però, scusami, io però scusami, se sono, e qui ritorno a bomba, io però se sono il direttore della Juve, io innanzitutto comunque una chiacchierata me la faccio con Antonio Conte, per capire. E poi scusami, io magari non vinco il primo anno, ma io sono sicuro che con Antonio in due anni tu vai a vincere. Se non vinci il primo, vinci il secondo. La verità è che io, siccome devo riportare la Juventus a vincere, e con Tiago Motta rischi di finire nella stesso sacco in cui sei finito in questi ultimi anni. Magari trovi anche il gioco, magari lanci anche i giocatori, ma rischi ancora di non vincere niente. Vabbè, è una scommessa. Massimo, perdonami, Massimo, perdonami. A prescindere dall'allenatore, che è una cosa fondamentale, io credo che ci siano altri aspetti da guardare prima, parlando sempre di Juventus. E la Juventus lo sa. Perché sì, è vero, io vado a prendere l'allenatore, scelgo l'allenatore bene, però in primis deve decidere quali sono gli obiettivi del futuro. Per decidere gli obiettivi poi vai sull'allenatore, ma devi ampliare il discorso dirigenti. Parlo di dirigenti che sono all'interno del calcio, che chiaramente la Juventus spero che sappia chi andare a cercare. Perché c'è un lavoro talmente grosso, perché noi in questo momento ci stiamo giustamente fissando sugli allenatori, che è una cosa fondamentale. Ma l'allenatore poi in sé, prendiamo anche Conte, prendiamo anche Antonio. Ma non basta Antonio, poi devi fargli la squadra. Perché se tu fai la squadra, per fare la squadra devi avere della gente brava che va a cercare i giocatori con determinate caratteristiche, non mi sbaglio. Allora, vedi che è tutto un complesso che non è mirato su una persona sola. Allora, verissimo, ma c'è... Non ho capito, però scusami, però scusami. Quando scegli Antonio Conte, sei anche di scegliere un allenatore che detta delle linee guida. Io ti porto un esempio, tu probabilmente lo sai, perché è successo anni e anni fa. Antonio, quando è arrivato alla Juve, anni prima era già stato contattato della Juve e si era seduto con l'allora dirigente Alessio Secco e quando si è seduto davanti ad Alessio Secco, e poi lui andò a Bari e quando si è seduto davanti ad Alessio Secco, Alessio Secco gli disse, ma tu Diego dove lo faresti giocare? Diego. E lui gli disse, scusa, ma io Diego non lo voglio. Eh, ma noi l'abbiamo già preso. E lui si è alzato, gli ha stretto la mano e è andato via. E gli ha detto, ma come? Mi chiami per fare un colloquio e hai già preso un giocatore prima di scegliere l'allenatore. Quindi già vuol dire che aveva sbagliato il povero Alessio Secco dell'epoca. Quindi vuol dire che se tu prendi Antonio Conte sai anche che prendi un allenatore che ti detta delle linee guida di mercato e di scelte di giocatori con determinate caratteristiche. No, ma questo è vero, questo è vero. Però la linea guida deve essere mirata in base al portafoglio della società. Sì, sì, ma lui guarda che non è... No, no, ma che Antonio ti dica... Guarda, questo che stai dicendo te l'ha fatto all'interno. Giacomo, scusami, Giacomo, scusami. Voglio venire a quello che è successo poco tempo fa. Perché queste cose io mi confronto, no? Allora, è una favoletta quella che si dice che lui vuole i giocatori che costano tantissimo. Perché? Perché è vero che lui, l'unico giocatore che ha fermamente voluto all'Inter era Lukaku. Ma Lukaku, per cui sono stati spesi 65 milioni, tu l'hai rivenduto a 120. A Chimi, che sono stati spesi 30, l'hai rivenduto a 65. Se dopo i due anni di Antonio Conte tu rivendevi Barella, acquistato a 30, lo rivendevi a 70. Se tu, dopo Bastoni, che l'avevi speso 25, lo rivendevi dopo i due anni di Conte, l'avresti rivenduto a 50. Cioè, queste sono cose che uno deve pensare quando tu prendi un allenatore del genere rischi, tra virgolette, di avere comunque un allenatore che ti rivaluta il patrimonio. Perdonami, ma questo va ancora a incidere su quello che ho detto prima. Quando lui è arrivato all'Inter, nel momento in cui ha valorizzato tutti questi giocatori, dietro alle spalle aveva una dirigenza di un certo tipo. Capisci cosa voglio dire? Certo, che lo ha ascoltato. No, che lo ha ascoltato. No, era capace, era esperta nel settore ed è stata molto brava. Allora, se va, però, Massimo, perdonami. Perdonami, se tu vai alla Juventus adesso... È stato mandato via Spalletti con ancora due anni di contratto ed è stato scelto da Marotta Antonio Conte per tornare a vincere. Questo bisogna sottolinearlo. Sì, no, no, ma io non sto dicendo. Sto dicendo un'altra cosa, e che voi sapete benissimo tutti. Il discorso è che se lui torna alla Juve, stando sulla Juventus, devi creargli una struttura tale che la Juventus stessa poi alla fine raggiunga gli obiettivi. Marotta dovrebbe essere giunto, giuntoli in Marotta. Perché, come prima, ho sentito dire, è arrivato giuntoli, però comunque non ha ancora trovato il bandolo della matassa. Giusto? Quindi tu dici Conte, se c'è solo lui. Arriva anche Antonio Conte. A Conte e giuntoli solo non basta, perché fa in fatica. Questo che voglio dire. Poi il resto è tutto così, perché la dimostrazione è infatti che dove è andato è andato, l'ha detto prima Marcello, adesso all'Inter, l'abbiamo visto tutti, dove è andato è andato, però tu dici c'è la Marotta. Ha portato risultati e valorizzato giocatori. Però se io voglio stare sulla Juve, sulla Juventus, io continuo a insistere, non voglio essere insistente, ma lo sono. Tu dici manca la società. Se non fai una costruzione della società che può dare una mano all'allenatore, che può essere Conte, Motta, non so, metti quello che vuoi. Diventa difficile. Però ragazzi, ripeto, io sono partita con la notizia del grande colpo di mercato della Juve strappare giuntoli a Napoli. C'è stata anche quell'estenuante trattativa che De Laurentiis non lo voleva liberare. Se avessi saputo che ti fava Juve da piccolo non l'avrei mai liberato. Cioè, era il Remida, era il più quotato insieme a Sartori, ma Sartori di un livello magari in uno step più basso. Secondo me non è che sia un livello, Sartori ha un ottimo livello, ha un bel livello alto. No, meno abituato magari a certe vittorie, ma non perché non sia bravo tanto quanto. Però mi state un po' minando, e ripeto, questo mondo di frutta canita. No, ma io penso che Elkan abbia ragionato proprio nel senso in cui dice, oh, proprio perché è stato quello che ha provato i risultati al Napoli, lo voglio, perché secondo me, con la politica economica, finanziaria, che vuole sostenere adesso la Juventus, lui è l'uomo adatto. E' bravo a fare le notte di Fichise. Poi è vero, come stava dicendo prima Massimo, che lui sta cercando di portarsi, di rifarsi il suo staff, no? Quello che aveva il Napoli sta cercando di rifarselo adesso la Juventus per farsi aiutare, no? Quindi vediamo adesso poi quando entrerà in maniera operativa totale che cosa riuscirà a fare. Di sicuro questo mercato lo farà, no? Spero. Eh, ma bravo, perché mi è stato anche detto, e qua allora vado un po' dalla parte misbilancio di Massimo e di quello che state dicendo voi, il mercato di gennaio mi è stato glorificato da qualcuno, ma in effetti ma che è stato fatto a gennaio? Ma cosa ha fatto a gennaio? No, punto. Non ha fatto niente. No, ok. Cioè ha preso Alcara a un più aumento, non ha fatto mercato la Juventus. No, poi scusami. La Juventus non ha fatto nel mercato d'agosto nel mercato di gennaio. Scusami Marcello, però ti dico anche questo, tu avrai pesato, perché se no fai un altro mestiere, tu avrai pesato i 12, visto che non l'hai preso tu, va benissimo. Tu hai speso tra i 12, perché devi mettere, quando tu prendi un giocatore, qui parliamo sempre del prezzo del giocatore, tu devi mettere anche le commissioni che paghi a chi ha fatto la mediazione, ok? E volano sempre minimo una milionata, minimo. Quindi sei speso 12 milioni, sono diventati già 13, ok? Di UEA. Ma tu in sei mesi avrai valutato sto figliolo? Avrai valutato che non è da Juventus? Ma puoi inserirlo in una cessione? Perché sei bravo a prendere, ma devi essere bravo a vendere, devi essere bravo a piazzare i giocatori in esubero, o di piazzare un Nicolussi Caviglia e prendere due lire da qualche parte. Però se andiamo su questo terreno, io e te potremmo tornare indietro nel tempo, andare a vedere come non riusciva mai a vendere i giocatori Marotta alla Juve. Quante discussioni abbiamo fatto io e te sui giocatori che la Juve avrebbe dovuto vendere, perché Marotta doveva vendere alla Juventus e non riusciva mai a vendere. Ma adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Sì, ma per dirti, le difficoltà a vendere le hanno poi tutti. Vabbè, comprare sono tutti bravi se hanno i soldi. Ma no, non è detto. No, ma non è detto. Ma non è detto, scusami. Guarda Marotta adesso all'Inter. Scusami, ma guarda Marotta adesso all'Inter. Ha dato via Brozovic, Onana, ha preso un sacco di soldi per giocatori che è riuscito a prendere il parametro zero. Si sarà migliorato. Ha preso il parametro zero l'ha dato via un anno dopo. Si sarà migliorato. Ragazzi. Ma si sarà migliorato. Si sarà migliorato. Si sarà migliorato. Ti ricordo che tanti giocatori... Ma scusami, non ti sto raccontando una balla. Ne abbiamo parlato io e te per mesi e per estate intere di come non riuscivo a piazzare i giocatori Marotta della Juventus. Io per mesi e per estate intere io non ho parlato con te di Marotta. Scusami, stai dicendo una cosa. Io con te ho parlato per mesi con te di Marotta. Vabbè, no, magari. Avrò avuto le traveggole, era il sole. No, scusami, io siccome non ho i capelli, non ho i capelli, mi picco il sole e a volte perdo. No, ma può essere, Massimo, Massimo, può essere che io ho meno capelli di te e mi batte il sole. Mettiti il cappellino, mettiti il cappellino. Esatto, l'effetto è più dire. Ieri la Juventus faceva tantissimi errori in uscita dalla propria area, faceva una marea di errori. Ma hai capito cosa sono i tecnici? Ma tu sai che cosa sono gli errori tecnici o no? Sì, me lo stai spiegando te. Tu me lo sensi. Ma infatti c'è un qui pro quo perché l'errore tecnico è il passaggio, lo stop. L'errore tecnico è quello che sto parlando. Scusa, scusa, scusa un attimo, ma quando io ti dico che devi uscire con la palla dalla tua metà campo, come ci esco? Con la palla sulla testa come le foche o passando? Però, cosa c'entra? E beh, allora, io ti sto dicendo che sbagliavano i passaggi, però non so se di esterno o non esterno quando lo fa e infatti lui ha detto e infatti lui ha detto abbiamo fatto un sacco di errori tecnici. Ed è quello che sto dicendo io. Ed è quello che sto dicendo io. Io mi chiedo, siccome sti errori tecnici glieli vedo fare da un mucchio di partite, non da Cagliari. Ma io ti sto dicendo appunto, ma se tu c'hai Miretti, scusami Miretti, se tu c'hai Miretti che non potrà mai diventare piano, non c'era Miretti. Miretti, rimane Miretti. Ieri non c'era Miretti. Non puoi ignorare un po', ma non puoi diventare piano. Ma ieri sbagliava pure Danilo. Ma il problema è che ieri sbagliava pure Danilo. Non è solo Miretti. Ma sì, va bene. Allora, ieri, cioè, l'ho visto la partita. Scusate, scusate, io volevo dire una cosa. A precedere a quello che stavate dicendo voi, però io vado indietro un attimo un pezzo. Noi stavamo parlando di Allegri allenatore, dove tutti noi, ma tutti lo dicono, e non lo dico solo io, che non è un allenatore che ti crea durante gli allenamenti determinate situazioni. È un allenatore che lui, se ha a disposizione un materiale, cioè, tu sei la mezzala, lui l'attaccante, difensore, lui deve avere dei giocatori già fatti in ogni ruolo. Poi lui decide alla domenica come la Juve Camero. La Juve Camero. Allora, non mi sembra un allenatore che durante la settimana, durante l'anno, non la settimana, durante l'anno, migliori un giocatore sotto l'aspetto tecnico, perché ho sempre sentito dire, anche di chi è stato il giocatore suo, non è un allenatore che si mette lì e ti insegna... Allora non ti puoi stupire che facciano gli errori. No, ho capito. Però lui parte, Marce, scusami, lui parte dal presupposto ed è sbagliato, perché si può... Allora, sotto l'aspetto tecnico puoi migliorare anche da 200 anni, a differenza dell'aspetto fisico, perché l'aspetto fisico fino a un certo punto poi è finita. Ma l'aspetto tecnico, se tu lo lavori, ci migliori sempre, ok? Però lui mi dà l'impressione, stando sempre sulla Juve di Allegri, che non è, anche per sentito dire, di giocatore che ha avuto lui, durante la settimana, Marcello, non lavora su quello. Non lavora per insegnarti. Lui dice, io ci ho Chirico che ti ho preso perché tu sei il centrale. E lui dice, non si deve lamentare poi in conferenza. Non ti devi lamentare perché l'ho fatto ieri. Lui si lamenti. Però prima, quando Massimo raccontava i nomi e diceva i nomi delle squadre che ha avuto quando vinceva i centrocampisti te ne faccio uno su due. Che dire? Pjanic, se tu metti Pjanic e Locatelli, è chiaro che Pjanic è molto meglio. No, ma lascia stare la forza. Pjanic, che dire? Il passaggio che parlavate voi nel giro palla per andare a cercare lo spazio per andare a far male alla squadra avversaria. Era un altro discorso. Però detto questo, noi, lì è il discorso tecnico e l'esempio tra un giocatore e l'altro. Ma quello che voglio dirti io, Marcello, lui mi dà l'impressione per quello che ho sentito dire che non è un allenatore che durante l'anno insegna. Vi faccio questa domanda. Infatti gli errori sono sempre quelli. Dopo la pubblicità vi faccio questa domanda. Infatti non è l'allenatore ideale. Infatti non lo è, ma è quello che abbiamo detto all'inizio della puntata. Ma io l'ho sempre detto. Dove però mi hai detto lo posto. Sì, però tu, se apri una pizzeria, l'ho sempre detto, non puoi chiamare uno che fa bene il sushi. Devi chiamare un pizzaiolo. E se apri un ristorante giapponese devi chiamare uno che fa bene il sushi. Ok? Tu hai preso un allenatore per una squadra che doveva essere ricostruita e invece hai preso un allenatore che è capace di vincere con giocatori già fatti. Perché non è detto non è detto poi che uno, perché se no sembra quasi che i cinque studenti consecutivi che ha vinto sembra quasi che gliel'hanno tirati addosso. Non credo. No, però la bravura di un allenatore sta proprio... Scusami, è difficile anche vincere con grandi giocatori. Non è facile. Altrimenti l'Inter avrebbe vinto già quattro scudetti con la squadra che aveva negli ultimi tre anni. Tre o quattro scudetti le aveva già vinti perché è una squadra più forte. Massimo, Mariana, facciamo così così hai il tempo. Basta. No, perché sono due ore che parliamo di Allegri poi vado a vedere la classifica e vedo che la Juve è terza che l'obiettivo che gli avevano chiesto è andare in Champions e che è in semifinale di Coppa Italia. Scusami, scusami. Cosa che invece proprio nel Milan qualcuno lì al Milan ha parlato di scudetto all'inizio dell'anno poi strada facendo ha cambiato direzione ha parlato che dovevano vincere l'Europa League e ha parlato che sono vicini al Manchester City e al Real Madrid. Però noi abbiamo parlato due ore e mezza di Allegri. Ebbè ma infatti però è la società che non è contenta di Allegri è la società che sta pensando a un altro allenatore è la società che sta ovviamente buttando anche il suo nome in pasto alla stampa sono tifosi che non lo vogliono e quindi noi dovendo fare cronaca raccontiamo quello che succede. No scusami no scusami Giovanna no scusami se devi guardare bene questo è quello che diciamo noi perché se se la società devi guardare la società la società ieri nella voce di Giuntoli ha detto che ha lavorato bene Allegri e noi abbiamo detto che è stata che non ci abbiamo creduto l'abbiamo detto non è che l'ha detto Giuntoli tu continui a dire che la società cambia l'allenatore ma tu hai sentito Giuntoli a dire che cambia l'allenatore ma non sei stato tu il primo tu l'hai sentito Giuntoli ma scusa io credo no ma tu hai sentito no adesso tu hai detto la società ma una squadra che non vince che cambia l'allenatore ha detto qualcuno della società ha detto che cambia l'allenatore ma nessuna squadra ma come non ho sentito dire non ho sentito dire che Pioli non sarà più l'allenatore ma così è ed è un altro argomento forte e importante ma infatti io non ho mica detto che Pioli non sarà più l'allenatore ovviamente io sto semplicemente dicendo sì però io non posso fare i collegamenti così perché se parlo vi dovete lasciare parlare ma hai parlato nel collegamento no ma nel collegamento non riesco a perché ci incrociamo le voci mi piace no io dico che è una squadra che non vince a due vittorie in due mesi e mezzo credo che sia un problema che no no io ho capito però scusami abbiamo parlato due ore e mezza sembra che la Juventus sia ottava scusa eh beh però Massimo abbiamo parlato anche bene ma non è ottava eh cosa non è ottava ma io non faccio trasmissione falla te la trasmissione non è mica problema però lavoro da 24 anni lavoro in questa televisione io non ho mai sentito una squadra terza parlare di un allenatore per due ore e mezza tutto qui va beh io non ho mai sentito